I posti noi non ne abbiamo, lo sfido a venire a vedere per esempio Noventa Padovana, dopodiché bisogna anche finirla di minacciare i sindaci dicendo che se non facciamo l'accoglienza diffusa vi facciamo un'attendopoli. Allora se questa è la leale collaborazione tra le istituzioni, mi sa che avremo un atteggiamento abbastanza ruvido nei confronti di sua eccellenza. Franco e diretto, non retrocede di un passo Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, che ribadisce punto su punto no all'accoglienza di migranti sul suo territorio. Se da Noventa Padovana arriva un no, ad Agna, che ancora vive l'incubo dei grandi app di San Siro di Bagnoli e di Conetta, il Consiglio Comunale ha approvato una delibera maggioranza dei presenti. Già nel 2015, 2016, insomma 2017, 2018, 2019, insomma gli anni scorsi quando avevamo il problema dei due app di Conetta e San Siro ce l'avevamo espressi. Per quanto ci riguarda, riteniamo di aver già assolta la nostra parte e di aver già dato in sostanza, perché il nostro territorio sta comunque accogliendo ad oggi dei migranti minori. I minori ospiti ad Agna, di una struttura gestita da una cooperativa, sono 23, ribadisce il sindaco Piva, che di caserme e grandi hub non vuole sentirne parlare. A Padova intanto il sindaco Saggio Giordani, che in emergenza ha aperto le palestre di due scuole, la Media Falconetto e l'Istituto Agrario San Benedetto da Norcia, aspetta lo spostamento dei migranti per avviare la sanificazione in vista dell'inizio della scuola. e su eventuali posti. Abbiamo 150, ne sai, abbiamo minori accompagnati, non abbiamo più uno spazio, abbiamo andato all'ostello, non abbiamo più spazio. Quando arrivano, dove li mettiamo? Critico da subito sull'apertura delle palestre, Marcello Bano. È stata una tragedia, che l'ho detto fin dall'inizio, ma come si può risolvere il problema mettendo delle persone come pacchi, facendo delle tendopoli all'interno delle palestre a tre settimane, adesso ne manca una e mezza all'apertura dell'anno scolastico. Era un sistema completamente sbagliato, che noi lo, io lo dicevo, il mio partito lo diceva, mi spiace ma il sindaco di Padova c'è caduto e questi sono i risultati. E allora l'orizzonte che cosa vede il sindaco? Il prefetto deve fare il prefetto, ha delle caserme, li accolga là, faccia il CPR, i centri per i rispringimenti, li identifichi, non li faccia uscire, dopodiché qualora siano riconosciuti come richiedenti asilo, a quel punto se ne discute.